Allora, iniziamo a parlare degli aspetti mentali. Allora, intanto lo sappiamo benissimo, quante volte mi hanno detto la testa, la testa, la testa, la testa. Beh, sembra una cosa stupidissima, però l'avete imparato sicuramente nel corso del primo livello, in cui bisogna, è opportuno, anzi è essenziale, parlare solo di cose positive. Quando c'è da correggere un errore non dovete dire la cosa negativa. Hai sbagliato, no. Devi far scivolare le dita sulla guancia, no. Hai tenuto la mano. E questo è già un aspetto mentale, no, perché la positività aiuta ad essere positiva. Quindi, qual è la parola chiave per il tiro con l'arco in generale, per l'arco nudo in particolare. Crederci è il miglior modo di riuscire. E questo deve essere scolpito nella roccia dagli istruttori. Crede, dovete avere un metodo per cui il vostro allievo, o stessi, nel caso posti anche arcieri, portare a questo livello in cui l'ottimismo deve essere la chiave di volta del vostro metodo di allenamento. Crederci è il miglior modo di riuscire. non dovete avere remore su questo. Perché questo? Cos'è che fa? Aiuta ad avere risultati, a innescare un circo virtuoso nel quale io raggiungo i miei risultati reali, obiettivi, è l'auto-efficacia. Io devo avere, devo impostare un metodo di auto-efficacia. Io devo avere la possibilità di ampliare il mio senso di auto-efficacia. Qual è il senso di auto-efficacia? Si arriva per gradi ad avere questo senso di auto-efficacia. Ti faccio un piccolo esempio. Se io devo camminare su questa riga, guardate come cammino bene. Cammino anche all'indietro. Quindi se questa striscia, che sarà di 40 centimetri, ci posso camminare con le mani dietro la schiena tranquillamente. Non sborderò mai. Quante probabilità ci sono che io sbordo e bordo con tutti e due i piedi? Nessuna. Si direbbe nessuna. È vero? Al 100% posso essere sicuro di camminare su questa striscia. Quasi a lotti chiusi. Mettiamo invece che ci sia questa striscia, ma ci siano mille metri di strapiombo da una parte e mille metri dall'altra. A parte il vento, che c'è il vento a 100 km all'ora, non mi conviene. Ma cos'è che mi ferma dal non camminare su questa striscia di cui sono sicuro di avere il 100% di possibilità? La paura dell'autorezza. La paura dell'autorezza. La paura dell'autorezza. Le mie ansie, no? Non ho un senso di autorefficacia tale che mi permette di fare questa attività. Autorefficacia intende? Il fatto di poter affrontare la sicurezza. La sicurezza. Ma io sono certo. Allora, sono certo al 100%, non al 99, non c'è una probabilità, una mezza probabilità di mezzo. Io sono certo al 100% che anche a lotti chiusi io su questi 40 cm sono in grado di camminare. Non c'è dubbio su questo. Non c'è nessunissimo dubbio. Dovrà essere in grado anche se ci sono tre. Indipendentemente. Allora, come posso arrivare a questo? Per durare. Cominciamo ad avere un metro. E un metro mi aiuta già, no? Un metro anche se cado, non mi faccio male. Tanto per cominciare. E così via. Ma funziona, vi assicuro che funziona. Poi comincio con un metro e mezzo, comincio con due metri. E siccome anche a due metri sono sicuro che tutto funziona alla perfezione posso cominciare con tre metri. E già tre metri, credetemi, sono tre metri, è un piano. E cadere dal primo piano. Ma la mia auto-efficacia è enormemente cresciuta grazie a questi piccoli passi, piccoli passi che ho fatto. Che mi hanno inserito la sicurezza e l'auto-efficacia necessaria per non avere nessun'ansia. Vi assicuro, funziona. Funziona al 100%. Come possiamo trasportare questo nel tiro con largo? Questa è la metodologia che dovete applicare voi per togliere ansia dai vostri arcieri. Se io devo essere interrogato quando ero studente e sapevo perfettamente, avevo studiato e sapevo perfettamente, ma non vedevo l'ora di essere interrogato, no? Perché adesso nasce alla perfezione. Allora, se io sono stato allenato bene nel modo giusto, sono perfettamente consapevole dei miei limiti, sono perfettamente consapevole dei miei pregi e di quello che so fare, farò le stesse identiche cose. Non c'è dubbio su questo, non c'è nessunissimo dubbio. Se io nel mio allenamento e il mio allenatore mi dice bravo solamente quando faccio bene e non quando faccio male, beh, nel mio cervello si forma una diversa percezione della realtà. La mia realtà è quella delle volé buone e mi dimentico delle volé cattive e questo non è un bene per l'arciere perché si fissano false aspettative. Quindi non è del tutto buono lodare gli arcieri quando fanno delle buone volé in allenamento, anzi non c'ha nessun senso se ci pensiamo bene perché il feedback che ci dà il bersaglio in allenamento non è proprio quello a cui noi dovremmo aspirare, ma dovremmo aspirare ad avere dei feedback di percezione. Adesso qui vedremo quando parleremo di cosa mentale. Quindi è un errore che purtroppo io vedo tantissime volte da parte degli istruttori che pensano di fare bene, invece no, creano delle false aspettative perché poi anche l'arciere stesso quando poi prova e dice ma io non faccio tutte belle le volé, qualche freccia va, forse bisognava aiutare la sua vetro efficacia in una maniera un pochettino diversa. Quindi questo è molto importante specialmente nell'arco nudo dove nell'arco nudo siccome è molto difficile tirare quell'arco nudo e fare i punti, poi quello dobbiamo fare. Nell'arco olimpico, nell'arco compound ci sono delle facilite in cui l'arco è più preciso, più stabile, gli permette una metodologia di allenamento più lineare. Nell'arco nudo non è così, le catene cinetiche in cui devo mantenere quest'arco in posizione dritto senza stabilizzazione, senza... è molto più difficile, è molto più difficile, infatti lo dicono i punti sul bersaglio, molto ma molto molto meno che non con gli altri altri dove ci sono accorgimenti che mi permettono di utilizzare il mio corpo in una maniera molto più interessante e più preciso. Ecco una cosa che siamo sempre a parlare è che è quella della... è collegata un po' a queste cose qua, la realtà in effetti, cioè quello che noi... la realtà non esiste, no? La realtà... quello che è il mondo esterno è solo una costruzione di quello che noi siamo in grado di percepire. Quindi questa è una cosa molto interessante perché ognuno di noi può crearsi una sua realtà ottimale. Non è vero che è il mondo che ci può manipolare, siamo noi che possiamo effettivamente molto velocemente e in modo molto rapido manipolare il mondo e ottenere dei buoni risultati manipolando la realtà, no? Quando si addestrano i cani, questo è interessante perché molto spesso si parla di target panic, si parla di di condizionamento, forse l'avete studiato, no? Il condizionamento classico, forse è perché è materia... faccio un po' stranate... è stato studiato, si chiama per l'appunto condizionamento classico. Non stiamo lì a entrare in questo argomento, ma potete andare su internet e digitare condizionamento classico. è un condizionamento che si usa molto nell'addestramento dei cani, per esempio. Il cane, il cervello del cane è facilmente manipolabile, è come una scheda perforata. Sapete, una scheda perforata è quando si usava nei computer adesso si usano i Dioni, no? O gli stati 0 o 1, no? Quindi in modo tale che una volta che io ho perforato questa scheda, non c'è più nessun dubbio, il cane si comporterà a certi stimoli in una certa maniera. Non ci sono più dubbi, l'ho condizionato per sempre, per sempre. Tutti gli esseri viventi hanno, purtroppo non sono perfetti, mi dispiace. Hanno questo, chiamiamolo, difetto. Sono facilmente manipolabili. Quindi è facilmente, il nostro cervello è facilmente manipolabile, sia nel bene che nel male, fissando certi percorsi in cui poi non potrà più uscire da queste percorsi. Diciamo che l'essere umano, siccome ha delle prerogative superiori a tutti gli altri animali, cioè ha la forza del ragionamento notevolmente superiore, può innanzitutto mettere delle contromisure, quindi preventive, e le vedremo. Ma molto più facilmente di tutti gli altri del regno animale, contrapporre altre contromisure in cui da uscirne da questo condizionamento. Quindi anche qua potremmo approfondire anche questo discorso che, ripeto, non sono psicologo, non mi permetterei mai di dare informazioni di cui il mio campo non è il mio campo professionale. Quando diciamo ad esempio vedere per credere, non è possibile questo, è impossibile vedere per credere, perché il nostro cervello non è minimamente in grado di farlo. Il nostro cervello ha pochissimi neuroni, veramente pochissimi neuroni, dedicati al mondo esterno. Per poter percepire la realtà deve prima credere per poter creare la realtà. Quindi è molto importante, non è vedere e poi credo, no, io prima devo credere. Ecco questo è molto importante nel vostro metodo sia di di apprendimento che di insegnamento. Assicurarvi che il vostro allievo creda a quello che dite, perché se no non funziona, non funzionerà mai, non funzionerà mai, non si formerà mai una realtà in cui possa immedesimarsi. Quindi è molto importante che prima si creda. Se non si crede non si forma la realtà e quindi non si vede. Funziona così. Solo se si comprende ciò che si vede lo si può percepire. Solo se si comprende ciò che si vede lo si può percepire. Se no, altrimenti non lo si vede. Ah, funziona così, funziona mediaticamente, d'altronde si lavora solo su questo, solo su questo, per quello che mi fanno dotare. Prima di altro mi hanno creato la realtà. Come possiamo manipolare la nostra realtà, il nostro piacimento? Beh, innanzitutto, se vogliamo cambiare, dobbiamo far finta che sia così. Se noi vogliamo cambiare, diventare più bravi, dobbiamo tranquillamente immaginarci di esserlo. Abbiamo solo dei benefici su questo particolare, solo ed esclusivamente dei benefici. Non è solo ottimismo. Perché questo? Perché questo faciliterà la nostra immaginazione che genererà consapevolezza e che ci porterà ad essere al centro di una nuova realtà. Sono andato troppo veloce. Beh, così, non siate, ne parleremo quando parleremo della mira, non siate troppo su dei modelli fissi. Ma dobbiamo, non esiste un arciere, un arciere su cui abbiamo un modello, no? E quindi dobbiamo manipolare un po' quello che vediamo. Come possiamo innescare questo circolo di attorno? Innanzitutto dobbiamo innescare la passione, perché è la passione e la migliore motivazione che noi possiamo dare. Quindi dobbiamo innescare la passione. La forza di volontà, quante cose, ma d'altronde lo sappiamo tutti, no? Se vogliamo, quando parleremo di fondamentali, vedremo che per arrivare la performance se è lassù sarà tanto più alta, tanto più stabile di quanto sarà larga la base, no? Perché la performance è una piramide. È una piramide. Quanto più grande sarà la base, tanto più alta sarà la performance. E la performance sarà tanto più stabile per quanto è la base. Cosa c'è la base? I fondamentali, che vedremo su questo. Questi famosi fondamentali del tiro collano. Ma siccome la passione è la migliore motivazione, come possiamo innescare questa passione? Bisogna avere forza di volontà. È qualcosa che dobbiamo avere di nostro. Perché non è che io vi auguro il meglio del meglio del meglio, ma il campione sarà uno su mille. E non è solo con l'allenamento, non è solo con i giusti metodi che si diventa campione. Ci vuole qualcosa di innato, no? Io posso allenarmi 24 ore al giorno con i migliori tecnici del mondo, ma non correrò i 100 metri in 10 secondi. Non ci sono dubbi su questo minimamente. Come anche avendo una bella voce che non ho, non diventerò mai Pavarotti, pur allenandomi 24 ore su 24 per cent'anni. Quindi qualcosa di innato ovviamente bisogna avere. Però questo ciò non toglie, che comunque il nostro compito è quello di portare a un livello medio più gente possibile. Perché poi ci sarà un altro trampolino, no? Dal livello medio ci sarà un altro trampolino per portare più gente possibile ad ottenere dei risultati. Qualche domanda? Ovviamente come si può organizzare la forza di volontà? Certi meccanismi mentali favoriscono il potenziamento della forza di volontà, che alimenta la dedizione, che alimenta, riconvertendola in passione. È logico, no? Io però devo avere forza di volontà. Qual è questa forza? Beh, intanto andarmi a allenare tre volte a settimana. Perché se non mi alleno tre, quattro volta a settimana, è quello che devo mettere, no? Quindi la forza di volontà alimenta la dedizione che mi farà fare piccoli passi e mi farà aumentare la mia consapevolezza e mi farà avere la passione. La passione è la migliore motivazione. E devo innescare questo circolo virtuoso. Qualche domanda su questi piccoli aspetti? Quindi piccoli passi, poi sapete già, gli obiettivi devono essere reali e bla bla bla, le solite cose. Ma sono cose importanti, no? Perché portano ad avere autoconsapevolezza, autoefficacia. Quindi piccoli passi reali, applausi globali, non solo sulla bella Valè, ho fatto 30. Bravissimo. Io alle volte vedo sui social, vedo delle foto di frecce nel centro. Almeno avessero messo una visuale nuova per tutti quei buchi, tutti intorno che li aveva fatti, non si sa. Ma purtroppo il tiro con l'arco è così, va visto nella sua globalità, va visto in una singola freccia. Qualora anche si tirasse una singola freccia. Se io fossi cacciatore, se io fossi cacciatore, e i cacciatori che caccia con l'arco sa benissimo che in una battuta di caccia con l'arco, nell'arco di otto ore di caccia, si tirano al massimo quattro frecce. Questa è realtà inconfutabile. Impostamenti, tutto quello che ne consegue da essere cacciatore. E so benissimo che di queste quattro frecce che tirerò, non dovrò ferire l'animale, dovrò ucciderlo. Questa è la base, la base di ogni cacciatore con l'arco. Qualora abbia un senso il cacciatore con l'arco, ovviamente per me non ha senso cacciare, sono assolutamente contro la caccia di qualsiasi tipo. Ma se vogliamo parlare di caccia con l'arco, io tiro quattro frecce e queste quattro frecce devono uccidere quattro animali. Questo cosa vuol dire? Che io ho tirato quattro frecce e ho fatto quattro centri perfetti. Per ottenere questo risultato, per ottenere questo risultato del 100%, cacciatore a 18 metri, devo almeno fare 40 frecce nel giallo, 40-45 frecce nel giallo. Se no, non vado a caccia perché ferisco l'animale, lo perdo ed è contro ogni etica di caccia, ma perché io a 18 metri, che è la distanza massima della caccia, prenda il cuore che è giallo che è 8 centimetri, e devo essere un buon acce. Non parliamo poi, se uso un lombò come un arco tradizionale, dove lo strumento ha molto meno precisione di un arco tecnologico in alluminio, competente carbonio, tali ne consegue che i cacciatori con l'arco sono solo sulla carta, non esistono nella realtà, effettivamente, perché io non ho mai visto archi tradizionali che fanno 45 gialli sui 60 frecce nella mia vita. Non ho mai visto. Quindi, tutti quelli che fanno simulazione venatoria con gli archi lombò, gli archi da caccia, lo fanno per biletto, non certo per essere dei cacciatori. A meno che, ovviamente, la caccia venga intesa, come effettivamente è intesa, dove non si tira, si tira fra i 5 e gli 8 metri con l'arco, sappiate questo. Per poter prendere gli animali bisogna mettersi, c'è un albero per tirare quando... Ma già questo avviene col compound. Già col compound si tira intorno tra i 12 e i 15 metri, tra gli 8 e i 15 metri. Tutti il 99% della caccia col compound viene fatta sul tristend, quindi appollaiato su un albero, passa l'animale e succede. Così avviene negli Stati Uniti. Quindi oltre i 18 metri non esiste nessun tipo di caccia o lago. Tutta caccia di appostamento, un po' proprio esiste. Anche per una questione proprio che se pensi che una freccia pesa intorno ai 500 grani, 500-550 grani, la punta è sui 250, e i 300 grani, la punta con le lame. Quindi insomma, dopo un certo effetto dell'attrito con l'aria e della gravità della Terra, non ha più la forza di penetrazione dopo 18-20 metri. La pelle degli animali più grandi non è così semplice. Detto questo, se non abbiamo domande sugli aspetti mentali, possiamo parlare un po' di regolamenti. Grazie a tutti.